Siamo con Lorenzo Alfieri, Country Head per JP Morgan Asset Management, al quale vogliamo chiedere in relazione di quelli che sono gli spunti offerti dall'attuale contesto di mercato, come si colloca la vostra proposta commerciale? Sì, buongiorno a tutti, il mercato nel 2019 secondo noi continuerà ad avere una certa volatilità, quindi evidentemente bisogna operare in modo molto diversificato. Abbiamo recuperato un asset class che per molto tempo non avevamo preso in considerazione che è l'obbligazionario, pensiamo che la Fed non debba rialzare i tassi e quindi questo ci permette di recuperare questo asset class, crediamo quindi che sull'obbligazionario americano ad esempio di medio e lungo termine ci siano delle interessanti opportunità, così come la Ilde emergente, la Ilde in Europa e la Ilde negli Stati Uniti. Sulla fronte azionario siamo invece un po' più cauti, guardiamo con qualche perplessità l'Europa, mentre ci piace negli Stati Uniti ad esempio le azioni di alta qualità e anche alcune opportunità nell'infotecnologico. Abbiamo riniziato a investire sui mercati emergenti, sull'azionario ad esempio in Asia, in Cina, in Brasile, in alcuni paesi dell'Europa dell'Est. Sul dollaro rimaniamo abbastanza cauti, anche se crediamo che per il 2019 ci dovrebbe essere sulla valuta americana molta stabilità.